Buongiorno da Fete Online, avvio positivo questa mattina per la borsa, il Fuzzi Nib infatti è in guadagno dello 0,2-0,3% circa, c'è attesa per la revisione delle proiezioni macro della BCE, quindi i mercati non sono particolarmente brillanti, faccio notare però come ci sia stato un movimento abbastanza interessante sul DAX, vediamo qui il grafico intraday di questa mattina, vedete le quotazioni hanno superato l'esistenza del 12.050 punti, questa fase può essere vista come un piccolo doppio minimo, quindi una base dalla quale tentare una correzione stesa del ribasso che c'è stato dai massimi di fine agosto, vedete ci sono due gap lasciati aperti, uno il 5 di settembre e uno il 31 di agosto, una 12.200 e quell'altro intorno ai 12.500 punti, se il doppio minimo avrà confermato oggi con una chiusura di sopra di 12.050, direi che per il DAX potrebbe aprirsi una finestra positiva e ovviamente anche il nostro Fuzzinib che già ha dato indicazioni in questo senso superando il lato alto di questa fascia laterale potrebbe avvantaggiarsene, vedete anche sul grafico intraday del Fuzzinib il gap ribassista del 10 di agosto intorno ai 21.600 punti che potrebbe diventare il prossimo target. Dal momento che comunque c'è una situazione sostanziale attesa questa mattina, probabilmente fino a ora di pranzo sarà così, per i titoli del Fuzzinib ci siamo concentrati oggi sulla media capitalizzazione anche perché è un mercato come possiamo vedere abbastanza interessante, qui abbiamo nella parte bassa della nostra pagina l'andamento dell'indice Midcap, nella parte superiore invece la forza relativa tra il Midcap e il Fuzzinib, vediamo che ormai dal mese di maggio questo grafico è in costante crescita, quindi con il Midcap che tende a sovraperformare il Fuzzinib, c'è stata una lunga fase, quasi un anno durante il quale il grafico di forza relativa era sostanzialmente orizzontale, se andiamo a guardare la retta di regressione per il periodo da aprile del 2017 fino a aprile, quindi un anno del 2018, vedete la retta è praticamente orizzontale, quindi in questo periodo c'era sostanziale equivalenza tra la performance del Fuzzinib e del Midcap, siamo tornati adesso in una situazione invece simile a quella che c'era all'inizio del 2017 con la media capitalizzazione che sovraperformava il Fuzzinib, quindi vale la pena di continuare a seguire questo mercato perché ci sono delle opportunità interessanti, essendo tra l'altro questi titoli ovviamente anche più scorrelati rispetto all'andamento generale di borsa, hanno una maggiore indipendenza. Iniziamo con Acea che questa mattina si riporta di sopra dei 13 Euro, sul titolo ci sono delle prime indicazioni abbastanza interessanti, ad esempio abbiamo avuto la media mobile esponenziale 20 giorni che è stata superata 3 sedute fa con una bella accelerazione, negli ultimi due giorni ha funzionato come supporto, oggi ce ne stiamo nuovamente allontanando, la linea di tendenza che parte dai massimi di fine 2017 e che la sua forma originale era stata superata a luglio, poi è stata ripresa, quindi possiamo riaggiustarla per passare per i massimi di agosto, fornisce una prima resistenza intorno ai 13,30 Euro. Oltre quei livelli ci sarà la possibilità di assistere ad un avvio di una correzione estesa del precedente ribasso con Acea che potrebbe puntare a movimenti almeno sui 14 Euro. Fino a che ci mantenremo al di sopra di area 12,75, queste prospettive rimarranno valide. Se andiamo a guardare il nostro mega trader, il sistema di analisi tecnica sviluppato in collaborazione con Trend Online che fornisce segnali di trading sui principali mercati, vediamo che per Acea ha una posizione long dall'11 settembre, quindi aperta recentemente, sulla quale stava guadagnando da ieri l'1%, la performance sui 12 mesi dei suggerimenti dati per il titolo è del 20% circa e cosa importante, lo stop loss per la posizione avviata due giorni fa è a 12,82 Euro, quindi si conferma l'importanza di area 12,75, 12,80 come livello di guardia al di sotto del quale potrebbero esserci capovolgimenti di fronte. Bene oggi anche Brunello Cucinelli, Cucinelli nelle ultime settimane ha dato invece dei segnali contrastanti, c'è stata la violazione di questa importante linea di tendenza, anche in termini di media immobili se andiamo a guardare la 200 giorni esponenziale vediamo che è sotto ai prezzi, quindi si mantiene una tendenza di lungo termine rialzista, mentre la 100 giorni esponenziale è la base sulla quale si sta cercando di costruire il rimbalzo attuale, vale 34,65 Euro, questa mattina siamo a 34,95 se dovessimo ritornare di sopra della linea di tendenza che ho disegnato, quindi sopra 36 Euro, direi che si potrebbe considerare terminata l'esperienza correttiva delle ultime settimane con la quale nel resto si erano tracciati due terzi circa del rialzo precedente e si potrebbe puntare almeno a un ritorno in area 39,39,50 dove si era aperto il gap ribassista del 29 di agosto, quindi benissimo l'ipotesi di andare a comprare o perlomeno di andare a inserire in portafoglio Cucinelli dal momento che siamo molto vicini al livello di stop loss sotto del quale verrebbero negate le prospettive rialziste che si posiziona come diciamo intorno ai 34,60 Euro con un target invece abbastanza lontano, quindi profilo di rischio per operazione di rialzo seppure avviate contro tendenza abbastanza interessante. Su Danieli ci sono dei segnali di forza che ormai si stanno accumulando, abbiamo avuto la rottura di questa bella linea di tendenza, vedete la rottura è stata seguita da un'accelerazione netta, poi abbiamo avuto un return move proprio sulla nostra linea, si vede bene col grafico a candele come i prezzi il 7 di settembre si sono scesi proprio a toccare la linea, si sono rimbalzati con forza e da quei livelli è partito un nuovo tentativo di rialzo, sarà importante adesso vedere se le quotazioni riusciranno almeno ad andare a interessare il lato alto di questo canale perché solo la rottura della fascia alta del canale, quindi solo il superamento di area 23 Euro ci farebbe capire che il movimento in atto non è solo un elemento correttivo della fase che è partita con i massimi di inizio marzo, ma un vero e proprio tentativo di riprendere la precedente tendenza rialzista di lungo termine. In ogni caso nel breve ci sono ancora discreti spazi di movimento, quindi si può ipotizzare di entrare sul titolo con obiettivi inizialmente in area 23, successivamente 24,50. L'impressione è che serviranno delle novità anche dal punto di vista societario per uscire da questo trading range, ma per il momento notiamo che tutte le volte che i prezzi si avvicinano in area 20,50, il titolo è ben comprato, quindi direi che questo tipo di strategia può essere premiante almeno in questa fase. Il termobiliare ha avuto una volatilità molto ridotta nel corso delle ultime settimane, oggi invece si sta muovendo con decisione a rialzo, siamo tornati in prossimità dei 20 Euro, massimo di ieri a 20,10, in questo momento siamo a 19,80, la parte alta di questa fascia a volatilità compressa si pone leggermente al di sopra dei prezzi attuali, è intorno ai 20,30, sopra ai 20,30, direi che avremmo un segnale interessante che potrebbe fare pensare che il titolo finalmente è pronto per muoversi a correggere questa lunga fase ribassista. In termini di rifiacciamenti Fibonacci, questo vorrebbe dire andare ad interessare almeno area 21,50, se non successivamente anche area 22,20. Sono curioso di vedere dove transit dalla media mobile a 100 giorni, potrebbe essere infatti non distante dai prezzi attuali, vale 20,72, anche questa è una resistenza da tenere sott'occhio per avere conferme positive, in questo caso evidentemente la 50 giorni sarà già stata superata contemporaneamente alla rottura della linea di tendenza, quindi si conferma l'importanza della resistenza di area 20,20 come primo segnale da seguire con un'ottica di forza rialzista. MAR dovrà dimostrare invece che questa mattina sarà l'1,12%, quindi siamo su noi massimi rispetto a quelli di ieri toccati a 24,92, siamo sopra i 25 Euro, ha già dato MAR un segnale importante perché ha superato il 61,8% retracement del ribasso dai massimi di maggio, vedete era una resistenza contro la quale si è scontrato il titolo a metà luglio, poi è stata superata anche se con un po' di fatica e adesso stiamo accelerando, quindi io direi che probabilmente siamo anche di sopra all'ultimo dei ritracciamenti Fibonacci che è il 78,6% che è stato superato appunto nella giornata di ieri, a questo punto il ritorno sul picco di maggio a 25,60% direi che dovrebbe essere abbastanza probabile, sopra quei livelli si potrebbe iniziare a pensare che la fase correttiva iniziata con i massimi di aprile è ormai terminata e dal momento che il titolo non ha mai interrotto questa tendenza rialzista, vedete come la linea di trend che descrive il rialzo sia rimasta intatta, si potrebbe iniziare a ipotizzare anche il raggiungimento dei nuovi massimi intorno ai 28,50€, quindi Mar sicuramente un titolo da seguire con grande attenzione. Veniamo infine a Sol che questa mattina si è risvegliato improvvisamente, sale del 3,5% a 11,30€, già negli ultimi due giorni c'erano stati movimenti abbastanza decisi, del resto i conti presentati di recente erano sicuramente buoni, anche in questo caso abbiamo un titolo che tutte le volte che scende intorno al supporto di 10€ viene comprato, a questo punto sarà interessante capire se a differenza di quello che è successo nel recente passato la resistenza di 12€ non verrà considerata un punto d'arrivo ma appunto una possibile ulteriore prova di forza, oltre 12,12,10 avremo un segnale molto interessante perché tutta questa fase laterale disegnata nell'ultimo anno circa diventerebbe il metro con il quale misurare il potenziale rialzista del titolo che in quel caso a di sopra di 12,10€ avrebbe un potenziale fino ai 14,20€. Andiamo a vedere se ci sono domande da parte vostra, si chiede di Safebag, Astaldi, Fincantieri e Mondo TV. Visto che si tratta di 4 titoli e che ovviamente non abbiamo tempo per seguirli tutti, direi che possiamo guardare Fincantieri che è interessante da un punto di vista diciamo anche della cronaca, gli altri ce li riserviamo invece per il prossimo appuntamento che non sarà domani e nemmeno lunedì ma ci rivedremo con i nostri video nella giornata di martedì. su Fincantieri che questa mattina andiamo a vedere se ha già percepito diciamo delle possibilità di ripresa, questa mattina abbiamo il titolo in rialzo del 0,72% a 1,40€, c'è una forte e evidente resistenza contro la quale i prezzi si stanno scontrando poco a di sopra di 1,40€, vedete dove c'era questo gap ribassista lasciato il 28 di marzo, lato alto del gap a 1,41€, ormai nel recente passato i prezzi hanno sbattuto più volte contro questo ostacolo, direi che solo una chiusura di seduta al di sopra di 1,41€, 1,42€ farebbe pensare che qualcosa è cambiato nella percezione del mercato rispetto al sentiment diciamo sul titolo, oltre 1,40€, 1,42€ ci sarebbero almeno 0,30€ di spazio per crescere quindi con un target che potrebbe estendere fino a 1,70€ almeno. Per il momento il potenziale c'è ma manca ancora il segnale di conferma che ci permetterebbe di entrare a rialzo, quindi pazienza e guardare con attenzione se si verificheranno appunto chiusura di seduta al di sopra di area 1,40€, 1,42€. Vi ringrazio ancora per l'attenzione, vi do quindi appuntamento a martedì prossimo con il nostro consueto commento giornaliero. grazie a tutti. grazie a tutti. grazie a tutti. grazie a tutti.